Ho trovato un pensiero che mi piace tantissimo, non so se te l'ho già detto, che è di Choran. Dice la mia forza è non aver trovato una risposta a niente. Ma guarda che il mondo degli aforismi è un mondo incredibile. Se comincia a entrarci dentro diventa come un... È venuto quell'amico africano, si chiama Mamisco, e mi ha letto un aforisma di suo padre, che non c'è più da tanti anni, che diceva In casa non puoi avere Dio e i soldi. Uno è il suo dell'altro. No, non è detto, comunque è curioso che un africano che vive a Dakar dica una cosa così. Cioè, non è che uno sè i soldi e non ha Dio. A parte che la parola Dio, sai, è difficile, bisogna metterla a posta, infatti. Però... Gli commento. Gli commento, si è messo a ridere. Merda questa. Si è messo a ridere. Ah! Gli commento. Gli commento. Gli commento. Gli commento. Grazie a tutti.